La sua visita ci è particolarmente grata, mentre a Napoli la mostra d'oltremare ospita quella internazionale del petrolio. È venuto ad inaugurarla a Villa Bruna. Lo accompagnano Leone, Gava e Laura. I modelli di raffinerie e di sonde ricordano che l'Italia sta diventando uno dei paesi del petrolio. Sede oggi del quarto congresso aperto a Roma da Marcello Boldrini e Villa Bruna. Per la prima volta dopo la guerra il congresso mondiale del petrolio si realizza secondo la prevista periodo di città quadriennale. E sono lieto di dichiarare aperto a nome del governo italiano il quarto congresso mondiale del petrolio. A nome del consiglio permanente parla Mr. Murphy. La fiducia tra le nazioni, egli conclude, scaturisce da incontri come questo.